appuntamento fesso mercoledì pomeriggio è bello però roviniamo il riposino di tutti i calciatori della serie a per oggi che abbiamo abbiamo un grande protagonista uno che secondo me non ha bisogno tanto di riposarsi per la carica che con cui va in ogni domenica a giocare oppure venerdì perché la prossima partita della salernitana sarà di venerdì quindi abbiamo il campionato inizia così è ricordatevi la formazione venerdì fantacalcio io la dimentico sempre è impossibile il venerdì sera chiederemo anche di fantacalcio a pasquale mazzocchi perché tra pochissimo sarà con noi ci avete già scritto come fate in tantissimi sotto i nostri post e poi in tanti state già scrivendo tra l'altro con la salernitana l'anno scorso abbiamo creato un po' di casino di bel casino perché avevamo questa buona tante di insomma di prometterci qualcosa lui ci cornetta tutta salerno vediamo che cosa ci promette oggi pasquale mazzocchi ciao pasquale ciao pacco ciao ciao ma come lo chiami pacco siete già amici vedevo già i commenti sotto sotto la nostra live che lo chiamavano pacco allora mi aveva incuriosito questo aspetto cioè da quanto tempo te lo porti questo soprannome il significato da tanto tempo da quando ero piccolino a napoli siamo abituati a scegliere diminutivi dei nomi però da piccolino prima ci ha svelato un piccolo segreto come ti chiamavano io da vicino ero molto magrolino a napoli mi chiamavano mezzo chilo ecco tipo come in sud america no che i soprannomi che ti porti da piccolo poi te li porti anche quando cresci e mezzo chilo vabbè come sarebbe stato in napoletano c'è il soprannome adesso quale sarebbe mazzocchi mezzo chilo è quello non è tanto era molto simpatico però eh sì però tantissimi ti stanno ti stanno salutando qui sulla nostra chat ho letto anche qualche commento ma ti amano davvero in tanti eh cioè proprio ci sono tanti tifosi che hanno detto mazzocchi ti amo Pasquale ti amo insomma davvero questi questi tifosi ti ti adorano è sempre stato così o è quest'anno in particolar modo visto che sei partito alla grande no forse anche un po' il mio modo di giocare no essendo io un giocatore molto sanguigno in campo eh a parte che qui a Salerno comunque ti fanno sentire sempre amati sono molto calorosi eh ti fanno sentire comunque un giocatore importante che rapporto hai con la tifoseria perché in tanti se lo stanno se lo stanno chiedendo no come ti trovi a Salerno hai detto che ti senti ti senti coccolato tra l'altro tu abiti lì eh hai scelto di abitare a Salerno tu sei di Napoli sei nato a Napoli eh però hai scelto di abitare in quella in quella città che ormai è casa tua immagino no? Eh no io abito qui a Salerno perché a me piace restare comunque vicino al campo di allenamento mi piace stare come si dice dalle nostre parti casa e chiesa però vedo un tot di chilometri al giorno per tornare a casa capito? Vedo Paco che ti scrivono anche però dal dal suo quartiere di Napoli che è Barra vero? Me lo confermi? Sì. E tra l'altro eh anche qui chiedo conferma vediamo se ho studiato bene tra due domeniche c'è la festa dei gigli alla quale tieni particolarmente? Sì è vero sì è una festa che che si festeggia in particolare San Paolino che nasce tra l'altro a Nola un paese in provincia di Napoli e che sarà sopportati anche nel quartiere di Barra dove abito io e sono cresciuto. Mi capita proprio nel weekend la sosta per le nazionali quest'anno perfetto. Purtroppo sì. No come? Così volevi riposarti invece devi stare. Eh no secondo me purtroppo è legato ad altro Pasquale perché qua la chat è impazzita dai leviamoci subito il dente perché ti stanno chiedendo tutti se ti aspetti una chiamata in nazionale. Se ci pensi. Ma guarda è bello sentire queste cose perché dai da chi parte da dal basso sentire certe cose fa tanto piacere ma questo momento sono sono veramente concentrato sul su quello che sto facendo con la Satellitana e non non posso distrarmi in qualsiasi modo. Teo Mazzocchi ti piace come soprannome? Penso che riferimento essendoci un H in mezzo a Teo sia Teo Hernandez. No ti ripeto non voglio essere essere paragonato a questi giocatori importantissimi. Sto facendo il mio cammino. Non voglio distrarmi e voglio continuare a fare quello che sto facendo. Però fa piacere sentire queste cose. Senti invece raccontaci un po' l'emozione perché anche qui mi faccio portavoce eh delle tante domande che stanno arrivando perché quest'anno insomma è arrivato il primo gol in Serie A e dedicato anche un post dicendo dopo tanti sacrifici finalmente è arrivato quello per cui ho sempre ho sempre lavorato no? Hai parlato quasi da attaccante Pasquale. Ma guarda io da piccolino nasco esterno d'attacco. Poi vengo spostato da terzino ma ho dovuto durante la mia carriera modificare il mio modo di giocare, modificare il mio corpo, ho dovuto modificare tutto e prendere quella mentalità da difensore che non è facile a carriera in corso. Quindi lavorando tanto ho portato sempre avanti il mio credo che è quello là del lavoro e dopo tanto lavoro con l'esordio in Serie A che è stato l'anno scorso finalmente poi è avvenuto il mio primo gol in Serie A. Contentissimo che sia venuto tra l'altro in casa davanti ai nostri tifosi che è stato un qualcosa di spettacolare. Sotto la curva poi proprio. Un gol così bello tra l'altro. Con un pizzico di fortuna però da noi si dice aiutati che Dio ti aiuta. Mi sono buttato lì in mezzo e con un pizzico di fortuna poi sono stato bravo a spostare la palla su sinistra a calciare. Sì sincero quante volte l'hai rivisto? Ho perso il conto. Allora siccome ti chiede Nicolò Falchi qual è la prima cosa che ti passa in testa dopo il primo gol in Serie A poi ce l'hai raccontato ti aggiungo io ma è stato più bello andare a dormire la sera dell'esordio in Serie A o del primo gol? Dopo il primo gol. Ma perché? Perché ci tenevi così tanto particolarmente? Era qualcosa che ti avevi scoperto? No per me è stata più che altro una liberazione. È stata una liberazione dopo le tante chiacchiere che ci sono stato dopo i due mesi difficili che ho passato a inizio stagione qui a Salerno è stata più che altro una liberazione per me. Senti restiamo sempre a Salerno perché Gabriele ti chiede come mai hai scelto la numero 30. Che il 7 tra l'altro era il suo storico. Sì, ho scelto la numero 30 perché è la data di nascita di un mio caro amico che è venuto a mancare tanto tempo fa. Beh questo è bello insomma anche perché sei un ragazzo tutto calcio e famiglia almeno da quello che siamo riusciti a capire anche dai tuoi social. Tra l'altro a proposito di famiglia devi sapere Deju che così giovane, prendi esempio per favore, così giovane lui è già pro zio, cioè ha dei nipoti, ne ha nove. Nove nipoti. Sì, è un pronipote. Ma Natale quanto ti costa? Eh, botto. Botto. Qual è il reso? No, però in Napoli ci sono tantissime famiglie numerose e la mia è una di quelle. Senti che rapporto, che zio sei? Che rapporto c'è con questi nipoti? Ah no, c'è un bellissimo rapporto. Poi tra l'altro c'ho tutti i nipoti piccolini. Solo una che ha 20 anni e gli è nata un figlio. È lei la più grande ma c'è un bellissimo rapporto con tutti. Cioè la tribuna a Salerno è piena di tuoi parenti, mi pare di capire. Quanto da loro, sì. Quanti sono? Quanti vengono a vederti? Eh, dipende, dipende. Cioè ci sta anche la famiglia di mia moglie che a volte viene. Cioè in media quanti siete più o meno? Una ventina? Poco sotto la ventina, dai. Qual è il regalo più costoso che hai fatto a un tuo nipote? Il regalo più costoso? Eh. Ma il regalo più costoso non si può dire. Io dico sempre che il regalo più costoso che puoi dare a un figlio o a dei nipoti è il cuore, l'amore. Bellissimo. E poi so che oltre a questo ha un cane, tra l'altro ce la chiedono già. Sì, tantissimi. Come sta il Labrador? Ci sta, è giusto? Sì, 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 Labrador, sì. Come si chiama? Jason si chiama. Jason, bello. Ma è lì con te, non riesci a farcelo vedere? Troppo non c'è. Ah, vedi. È a spasso, è a fare i fatti suoi, giustamente. A Napoli con mia moglie, io sono da solo a casa in questo momento. Ah, ok, ok. Tua moglie con cui ti sei sposato a giugno, però visto che la promessa era arrivata nel 2020, poi immagino l'abbiate rimandato per il Covid. Per il Covid sì, è stato rimandato purtroppo e ci siamo sposati quest'anno. Com'è stato? Raccontaci un po'. Fai venire un po' voglia a tutti di sposarsi, dai, Mazzocchi. Ma perché? No, è stato molto emozionante perché io e lei comunque eravamo fidanzati da nove anni, venivamo da cinque anni di convivenza, poi abbiamo deciso di sposarci. Poi la nostra storia è una storia bella, ci siamo conosciuti in un movimento giovanile domenicano a Napoli e abbiamo portato il nostro amore avanti fino al matrimonio. E tu sei tanto credente. Infatti molti tifosi ti chiedono che rapporto hai con la fede. Te lo chiedo perché insomma ha fatto un po' il giro del web, anche questo tatuaggio enorme che hai sulla schiena, questa faccia di un Cristo, insomma è grande quanto una schiena. Quindi che rapporto hai con la fede? Io sono un credente, molto credente, ma poco praticante per via del calcio. Come infatti ho scelto anche una casa che sta a pochi metri da una chiesa, perché a me piace stare sempre a contatto con il nostro Signore. Scelta forte però quella del tatuaggio, è così grande. Ah, forse per gli altri sì, ma chi ci crede no, ognuno manifesta la sua fede in vari modi, ma mi piace dimostrarla così. E modi anche più moderni, eh? Poi guarda, guarda queste domande qui di Rosetta e Alessia. Il compagno con cui sei più legato, entrambi ti chiedono più o meno la stessa cosa, quello con cui hai più feeling, con cui ti confidi, magari ti fa anche ridere di più. Ma guarda, ti sembrerà strano, ma io rido e scherzo con tutti, anche con gli stranieri, anche se con gli stranieri magari a volte devo gesticolare. Però rido e scherzo con tutti, cerco di far divertire tutti, tutti sono gentili, tutti fanno ridere. In questo momento stiamo affrontando un inizio di campionato importante, quindi abbiamo l'umore alto, ma dobbiamo comunque cercare di restare con i piedi a terra. Hai mai insegnato una parola in dialetto napoletano a un giocatore straniero? Sì. Adesso la usa, per esempio. Sì, che non è una parolaccia, eh? No, 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 no. Qual è? Eh, passiamo pallone. A chi l'ha insegnato? Eh? A chi l'ha insegnato? A Coulibaly. Eh, lui lo dice? Proprio così? Sì, ogni tanto, ogni tanto. Fa molto ridere questo. Però noi abbiamo pensato a un gioco, eh, Pasquale. Sì, lo propongo. Sì, dai. Abbiamo pensato a un gioco carino. Cioè, invece di chiederti la solita cosa, ma com'è questo, com'è quello, nello spogliatoio. Il gioco preferito, vabbè, poi ne parliamo. No, soprattutto per lo spogliatoio, perché poi sappiamo che c'è una regola proprio che non si può toccare, quella dello spogliatoio. Allora abbiamo pensato di fare un gioco con te. Dai, allora partiamo da… No, spiegali il gioco, però. Allora, praticamente, noi ti diamo cinque giocatori, anzi, più l'allenatore, quattro giocatori, e ci dici una definizione in napoletano per descrivere al meglio la persona, il giocatore. Un aggettivo in napoletano, va. Un aggettivo. Eh, ci stai? Vai, ci provo. Tipo, dia, raccontaci un po' in napoletano come lo potresti sintetizzare. Penso che ancora non lo conosciamo tanto. È difficile, non è facile. Proviamo ad andare avanti, vediamo se li viene poi. Dai, diamogli un altro nome. Non è facile, non è facile. Piontek? Bello Vagliono. Bello. Ribery? Fenomeno. Vabbè, è semplice. Come dire, è un mostro. Coulibaly, l'hai citato prima, che parla anche napoletano ormai. Coulibaly, mi viene da dire un animale. Vai. E poi il mister, Davide Nicola. Lui è il maestro. O maestrale lo chiamo. Lo chiami così proprio? Sì, sì. E lui che dice? Che dice? Me lo invita bene. Senti, Dia non ti è venuto, quindi. Dia no. Quando io mi ha preso la spropoli, ci devo pensare, te lo dico dopo nel caso. Perché ancora dobbiamo conoscerlo. Ma... E' bravissimo, è molto timido, è uno che dà l'anima in campo, è bravo. E Candreva? Candreva non c'è nulla da dire Antonio, è grande, si è presentata alla grande, l'abbiamo accolta alla grande, ha la sua carriera alle spalle, è venuto qui a Salerno con le spalle grandi e cerca di darci sempre una mano con la sua corsa e la sua qualità. Senti andiamo a leggere ancora qualche domanda, c'è Vincenzo che ti chiede qual è il tuo sogno calcistico, prima ci hai detto che stasera si guardano le partite, il sogno è anche un po' quello di andare in Europa? Ma guarda, io non c'ho sogni, io c'ho obiettivi, perché per me il sogno vuol dire qualcosa mentre dormi, invece gli obiettivi si raggiungono con il lavoro, quindi a me mi piace darmi degli obiettivi e cerco di raggiungerli. Giusto così, un ragazzo con i piedi per terra. Vorrei tornare, Barbara, sulla partita di Torino, perché al di là di tutto quello che si è detto, è stata una grandissima Salernitana e quando siete andati sul 2-0, mi metto nei panni di un tifoso della Salernitana allo stadio, ma non solo anche a casa che guardava la partita su Dazon, era già quello un sogno, a proposito di sogni, cioè dopo la salvezza dell'anno scorso, andare allo stadio, ti chiedo, questa Salernitana quest'anno, che cos'è tu che hai visto anche il passaggio dopo quest'estate? Sembra veramente una bella realtà, cioè una bella squadra che gioca bene. Cosa c'è in più? No, c'è il fatto di volersi tutti bene, il fatto di uscire magari con la squadra, andare a fare una cena, aiuta tantissimo a fare gruppo. Il mister è molto bravo a creare un gruppo forte, unito, perché poi alla fine, diciamoci la verità, le imprese le fanno sempre i gruppi forti, puoi avere giocatori forti, tecnici di qualità, ma se non hai un gruppo forte non vai da nessuna parte. Quindi la nostra forza sia l'anno scorso che quest'anno è sempre stata quella di avere un gruppo forte, quello di aiutarci sempre, chi va in campo ma soprattutto chi sta fuori campo, perché chi in questo momento non sta giocando ci sta dando una mano incredibile e questo ci permette di allenarci sempre al 100% e dare sempre il massimo. Senti, mentre tu pensi ai tuoi obiettivi, qua ci sono i tifosi che però sognano, glielo devi concedere, c'è Alessandro che scrive Mazzocchi con la 7 nazionale, ecco il sogno. E poi c'è Guglielmo che dice ciao PM7, come ti chiamavamo a Parma, ma ci puoi raccontare delle tue doti canore? Perché so che a Parma eri il cantante di quel gruppo e per le cerimonie ti sei esibito in una grande performance, è vero? Sì, sì, qualche volta sì, sì, l'ho fatto. Noi a Napoli nasciamo con la vena di cantare, ci piace canticchiare, lo facciamo ogni tanto e anche a me mi piace tanto. Quando vuoi, quando vuoi. A Medejo ci chiamano Sant'Omaso, quindi se non vediamo non crediamo, vogliamo sentirlo. Ma eh no, tra l'altro, le canzoni neomelodiche, boh, e... C'è canti un pezzetto. Ma neomelodica napoletana. Eh va bene, la tua preferita. Tony Colombo, dai qualcosa. Ah, ce ne sono tante, ma non ho voglia di cantare adesso. No, ci abbiamo provato, dai, volevamo sentire, siccome siamo due suonati, volevamo sentire una... Vabbè, però dici qual è il tuo artista preferito. Il mio artista preferito? Quello che senti prima di ogni partita. No, ma ce ne sono tanti, sento, non sento solo canzoni napoletane, sento anche rap, sento... Dipende dai come sto con l'umore. Eh, è bello. Prima della partita? Prima della partita io sento sempre musica motivazionale. Cioè, tipo, del Pullman allo staff, prima di andare a Torino a giocare con la Juve, che canzoni avevi sentito? Sempre musica motivazionale, sento... cerco di caricarmi il più possibile. Ma tipo, non lo so, Liberato, chi... No, no, no. Musica, musica mia che mi carica. E basta. Bello. Cerco di ricaricare le batterie tramite la musica, nessune canzoni, nessune vocali, zero. Allora... Qual è il suo coro preferito, ci chiede Luca, della Sud Siberiano. Eh, sì. C'è un coro in particolare che ti piace, che ti carica? Ma guarda, ti dico la verità, talmente che sto concentrato alla partita che ne sento pochi, sento solo tanto casino. E meno male. I radio cantano dal primo secondo fino a quando rientriamo negli sfogliatoi. Si fanno sentire, li sentiamo anche noi, prima, durante e dopo la partita. Ancora curiosità, eh, Pasquale Agostino, ad esempio, ti chiede qual era la tua squadra del cuore da piccolo. E poi ti scrive anche Grande Paco, titolare inamovibile al Fanta. Quando ero piccolino, piccolo, ti favo Inter, ero appassionato di Martins. Era appassionato di Oba Oba Martins, era il mio giocatore preferito a quei tempi là. E da piccolino ero appassionato all'Inter. Poi con il crescendo, ovviamente, sono sempre stato fedele alla mia città. E al Fanta Calcio, come siamo messi? Ci giochi o no? No, non ci gioco. Ma no, perché non ti piace o perché non hai l'occasione? No, perché non voglio avere troppe cose da fare. Devo essere sincero. Sì, la formazione. Sì, preferisco concentrarmi sulle mie cose. Cioè, tipo, dopo il calcio che cosa c'è? Cioè, tua moglie, immagino, visto che parlavamo del rapporto che era con la tua famiglia. Poi che ti piace fare? Cioè, tipo, oggi pomeriggio libero, che fai? Oggi pomeriggio libero vado a fare la spesa. Ah, ecco. La spesa di Mazzocchi com'è? Vabbè, ho portato il cane a passeggio, ma non c'è. Senti, ma la spesa ti piace farla? Sei uno che poi, diciamo, ogni tanto si concede qualche strappo alla regola oppure sei rigido anche sulla spesa? No, io sono un professionista, nel senso che ho la mia dieta, cerco di portare avanti i chicchi di riso, praticamente, io. Sono proprio malato mentale su questa cosa qua. Infatti, gli amici, anche ne ho sperato di prendere un po' in giro per questa cosa, però è la mia mentalità che ho portato sempre avanti. Posso che è giustissima, anzi, dovrei prendere esempio. Però mi ha fatto specie questo aspetto che ha raccontato anche Insigne in Toronto Little Italy, che c'è adesso su Dazon. Un contenuto stupendo, siamo andati a Toronto a conoscere cosa fanno Bernardeschi, Criscito e Insigne. E Criscito prendeva in giro Insigne perché anche lì lui stava attento alla dieta e quant'altro. Sì, ma crescere in una città come Napoli è difficilissimo, però è proprio complicato. Sono leggermente avvantaggiato perché ho sempre giocato quasi al nord. Ah, sì, a parte Benevento, no? Poi sei andato subito a Verona. Ero piccolo, poi sono andato sempre a giocare sempre al nord Italia. Questo è, sì, è il primo anno che gioco al sud e devo dire che è più dura. Qual è la cosa che, se ti concedi proprio, dici vabbè, questo non si può fare a me. La mozzarella. E poi le domande che mi piacciono a me. Vabbè, vedi, vai te. Sì, c'è Rosetta che ti chiede, oltre al calcio, qual è lo sport che ti piace di più e quello che vorresti, insomma, giocare, oltre che guardare. Non ne ho. Ho un'altra passione che è quella del disegno, che ogni tanto mi concedo qualche... Ce ne fai vedere uno? Ce l'hai? Eh, no, qua non ce l'ho. Zero proprio, neanche a casa... Neanche un fogliettino. Però a casa a Napoli. Senti, ma come disegni? Col carboncino, i pastelli, come ti disegni? No, la matita. Io ho fatto anche qualche lezione privata nel disegno imperialistico. Non riusciresti a farci una faccina al volo? No, come faccio? Ci vuole imperialismo, ci vuole tempo. Caspita, sapere. No, guarda che questo è un talento però, eh. Cioè, non è che disegnare lo impari così, è un talento che hai. Lo faccio a volte perché mi rilassa, per essere sincero. Ma più volti o più paesaggi? No, volti. Oh, ma quante ne sai, oh. Guarda che qua, mica pizze e fichi. Quanti ritratti hai fatto a tua moglie? Li ho fatti in passato, nell'ultimo periodo zero. A nostro regione gli ho regalato anche un quadro di noi, disegnato, non fatto da me, però. Da un professionista. Hai mai fatto un ritratto di un tuo compagno di squadra, di un tuo allenatore e gliel'hai regalato? No, no. Beh, sarebbe bello però, eh. Mai fatto. Fai un ritratto di un tuo compagno e ce lo mandi. No, facciamo così, facciamo così. Aspetta, aspetta. Allora, Bonazzoli mi è venuta. A Bonazzoli abbiamo chiesto i cornetti. No? Allora, in caso di, dici tu, se è in caso di salvezza, scegliamo un posto in classifica, scegliamo un obiettivo personale. No, la salvezza, la salvezza. La salvezza. Allora, in caso di salvezza. Allora, in caso di salvezza, Mazzocchi ci promette che ci manda un disegno della squadra, di un compagno, il tuo autoritratto. Fai quello che vuoi, però ci prometti un disegno. Va bene. E noi lo mettiamo all'asta. No, ma lo volevo tenere io. Ma no, ma no, facciamo beneficenza. Scusa, ma uniamo l'utile al dilettevole, no? Ma come lo volevi? Siccome abbiamo cinque minuti ancora, ci sono quelle domandine che faccio sempre io, molto da bambino, che però escono anche qui sotto i nostri commenti. Per esempio, quella di P Games, l'attaccante più difficile che hai marcato? Io sono rimasto impressionato da Leao. È un giocatore che ha delle potenzialità, secondo me, incredibili e ha dei margini di miglioramenti, secondo me, infiniti. È un giocatore molto, molto forte. In assoluto è lui il giocatore più forte che hai affrontato? L'O'Lago che ho affrontato io, sì. Per me, sì. È il compagno di squadra invece che ti ha impressionato di più tecnicamente di tutta la tua carriera? Ribery. Ribery. Ma raccontaci qualcosa dentro negli allenamenti con Ribery, cioè palla fra i piedi, com'è? No, lui, tu giochi e lui praticamente sta già quattro giocate in avanti. È una roba assurda. Dici come ha fatto? E chi lo sa? Senti, invece, il rapporto col mister, perché anche su questo te lo stanno chiedendo, no? Nicola, poi, una persona che è molto, molto riservata e difficilmente si fa conoscere all'esterno, al di là del fatto che sia comunque una persona onesta davanti alle telecamere, a microfoni accesi. Però, come allenatore, rispetto a quelli anche che hai avuto, che allenatore è? Che rapporto c'è con te? Al mister è un allenatore, secondo me, unico nel suo genere. È un allenatore che riesce ad entrarti dentro e alcune volte, tra me e lui, ci basta che ci guardiamo negli occhi per capirci. È veramente un allenatore speciale. Prima di essere un grande allenatore è un grande uomo. Ma se dovessi ripensare alla salvezza dell'anno scorso, perché poi, secondo me, è passato un attimo in sordina, cioè, al di là di come si è finita con quella notte incredibile tra Venezia e Salerno, però ci sono stati più momenti in cui la salernitana era spacciata l'anno scorso. Vabbè, al di là del cambio in panchina, però anche quando c'era Nicola, comunque ci sono state delle serate dove nessuno poteva immaginare che quella salernitana si sarebbe salvata. Beh, mi viene da pensare alla partita col Torino, no? Però lì Nicola non ha mollato di un centinaio. Dici come l'avete vissuta da dentro. Il lavoro del mister è stata quella là di portarci a noi l'obiettivo di partita dopo partita. Cioè, noi comunque dentro di noi sapevamo che c'era un'impresa da fare, però quell'impresa inizialmente era troppo lontana. Era troppo lontana per dire ci dobbiamo salvare. Quindi in quei casi cosa devi fare? Il mister deve dire a noi non ci resta altro che vincere domenica. E partita dopo partita questo obiettivo lo vedevamo, lo vedevamo che si avvicinava. E ti ripeto, partita dopo partita siamo riusciti poi ad arrivare alla fine. E poi la fine la sappiamo tutti quanti. È stata un qualcosa che secondo me nei prossimi cent'anni non si vedrà. Ma quella sera lì in campo cosa pensavi? Bella domanda questa. Perché voi sapevate, mi immagino, anche l'altro risultato. Sì, no, ve lo comunicavano, lo chiedevate. Mi è dispiaciuto moltissimo. Ribadisco moltissimo perché per aver sbagliato la partita davanti ai nostri tifosi che ci hanno fatto vedere una cheorografia incredibile. Mai vista secondo me nel calcio una cosa del genere. Ci dispiace aver sbagliato una partita. Poi alla fine abbiamo ottenuto ciò che alla fine abbiamo meritato. Perché poi abbiamo affrontato sette partite in 21 giorni. Abbiamo fatto un qualcosa che secondo me, ripeto, di unico. Difficilmente si rivedrà nel calcio. Ma lì che era successo? Vi tremavano le gambe? Avevate ansia? Secondo me non stavano capendo nulla. Lì subentra tutto. Subentra ansia, attenzione. Era una partita che aveva un'importanza secondo me troppo grande. In quel caso lì purtroppo l'abbiamo sbagliata. È stata colpa nostra. Ci siamo presi le nostre responsabilità. Però poi, per fortuna, il nostro Signore ci ha dato quel che meritavamo. Senti, ultima domanda. Visto che devi andare a fare la spesa, non ti vogliamo trattenere, devi riposare e non vogliamo darti fastidio. C'è la percezione, sinceramente, no? Al di là, ora non so se sei scaramantico o meno. Lasciamo perdere i discorsi di calcio. La percezione che la Salernitana possa fare qualcosa di più quest'anno c'è? Ma guarda, deve essere la nostra ambizione fare sempre bene e fare sempre meglio. Però non ci dobbiamo dimenticare da dove veniamo. Non ci dobbiamo dimenticare cosa abbiamo affrontato per essere qui quest'anno. E questa è una cosa che noi dobbiamo comunque farglielo capire anche ai ragazzi nuovi che sono venuti. E dobbiamo cercare sempre di restare con i piedi a terra. Perché ora venerdì ci aspetta una partita importante e difficile contro una squadra che secondo me sta bene. È una grande squadra che ci può mettere sicuramente in difficoltà. Però noi quando giochiamo in casa giochiamo sempre con un uomo in più in campo. Quindi dobbiamo andare venerdì decisi e cercare di portare assolutamente questi tre punti a casa. Perché poi ci permetteranno di affrontare i prossimi giorni con più serenità. Ti lasciamo con questo messaggio di un tifoso. Salerno si sta innamorando di te Paco, resta e scrivi la storia. Bello no? No, è bellissimo sentire queste cose, è troppo bello. Ti ripeto, Salerno è un qualcosa di magico, bisogna viverla per capirlo. Grazie Pasquale, grazie per essere stato con noi. Spero ti sia trovato bene. Grazie a voi. Aspettiamo il disegno, eh? Prima salviamoci. Aspettiamo, l'aspettiamo, ci vediamo venerdì. Ciao Pasquale. Ciao, ciao. Dai, ci ho dato un sacco di titoli. Sì, sì, sono io, certo, sono il tredicesimo uomo in campo, perché il dodicesimo è sempre il pubblico, poi sarà una gran bella sfida anche sugli spalti, insomma sono due tifoserie anche calde, due tifoserie anche con tre poste, insomma ci sarà da divertirsi. Poi è pur sempre venerdì sera. Che è una giornata che inizia molto presto, quindi, venerdì sera, quindi è la settima pagina di questo campionato, ricordatevi il fantacalcio, quindi vi ricordate anche che c'è Fanta Radar qui, esatto, e poi domani c'è venerdì, c'è Dazon Talks Serie B e poi tutti gli appuntamenti ovviamente di questo weekend di Serie A, c'è anche l'Europa League, non dimentichiamolo, domani siamo anche ovviamente live con Europa e Conference e insomma. E per quanto riguarda invece l'app di Dazon, ragazzi, per chi non l'avesse ancora visto, c'è il nuovo Lost in the Weekend. E soprattutto? Il nuovo episodio di Lost in the Weekend, aspetta perché, cioè, deve passare bene questo concetto, secondo me dovete abituarvi al martedì, perché se volete ridere dieci minuti, ma ridere di gusto, distrarvi un attimo da qualsiasi cosa, voi aprite l'app di Dazon, Lost in the Weekend, il mercoledì mattina più o meno, tanto il mercoledì mattina andate in ufficio, andate a scuola, anche ve lo mettete nell'astuccio a scuola e lo guardate, tanto non vi sgamano i professori, se... oppure... lo facevo... oppure per chiunque insomma volesse, Lost in the Weekend. E poi prima cennavamo a Toronto Little Italy. Sì, è il nostro viaggio tra gli italiani, i giocatori che giocano e che sono andati insomma all'estero, sono andati a Toronto e quindi giocano a Toronto, quindi è un bel viaggio con Nick Sechi e con Greg, Gregorio Ozimo e Roberto Magliacane. C'è Mancosu domani, sennò Tommy si arrabbia. No, perché non so mai se spoilerarlo l'ospite o no, annunciarlo. Domani c'è Mancosu del Cagliari. Ci dice gentilmente di ricordarlo, quindi domani c'è Mancosu. Gentilmente. Sì, sì. E niente, noi ci rivediamo mercoledì, tu stai bene? Finalmente siamo riusciti a fare il 5. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti.